Un buon manubrio della Secret dovrebbe presentare una forma allungata come questa e disporre di una superficie morbida e antiscivolo. Grazie a quest'ultima è possibile impugnarlo comodamente anche durante le sessioni di allenamento più faticose, evitando che le mani scivolino a causa del sudore. I modelli migliori sono inoltre dotati anche di sensori per monitorare il battito cardiaco affinché si possa pedalare in tutta sicurezza senza correre il rischio di effettuare sforzi esagerati.